Dopo 17 anni di chiusura, senza capire bene per quale motivazione, per un piccolo cedimento fondale, abbiamo finalmente capito che sia la qualità dei materiali di questa scuola e sia la resistenza meccanica rendeva questa scuola una tra le più sicure di Teramo. Un indice di vulnerabilità pari a 0,7, che sicuramente si avvicina all'1, tanto agognato, e nello stesso tempo una scuola che è rappresentata per la storia di Teramo veramente uno dei punti cardini di tutte le attività scolastiche che avevamo, è stata chiusa senza capire il perché. Oggi, grazie all'ingegner Manetta e alla struttura tecnica del Comune, siamo riusciti a fare un preliminare progetto per verificare la possibilità di sistemare all'interno di questi edifici delle scuole primarie del nostro Comune, che sono praticamente sotto l'ordinanza 31, che ci consentono di poter acquisire il 10% del finanziamento per recuperare questa struttura. È stato un intervento oltretutto richiesto anche dal Comitato di quartiere e dall'associazione di questo quartiere, che ci ha fortemente chiesto la possibilità di poter riaprire un edificio scolastico così importante per riqualificare non solo la zona, ma anche per ridare a questo quartiere quell'importanza che ha avuto nel corso degli anni. Siamo riusciti con questa idea, con questa progettazione, insieme all'ufficio tecnico, veramente a rendere possibile un sogno non solo dei residenti, ma anche di tutti quei genitori che negli anni passati portavano qui i propri figli e che vedevano questa scuola come un punto di riferimento della cultura della mamma. Lo faremo tornare a vivere, lo faremo tornare a vivere all'interno di un quartiere, insieme ad un parco stupendo, insieme a degli spazi che ci consentiranno veramente di restituire ai nostri ragazzi non solo una scuola sicura, ma anche un contesto veramente importante e bello anche sotto il profilo ambientale. I tempi, come dicevo prima, adesso passeremo a una progettazione definitiva ed esecutiva perché sarà importante proprio andare a verificare alcuni aspetti, ma nello stesso tempo, credo l'ingegnere Manetta poi potrà essere più preciso di me, nel giro di pochi mesi saremo nella condizione di poter andare in gara per poter aggiudicare i lavori. I fondi, come ho detto prima, sono fondi del 10% dei finanziamenti di 13 scuole, esattamente, di cui due sono già chiuse. Possiamo utilizzare il 10% del finanziamento di questa ordinanza 31 che ci consente di avere una somma tale per poter recuperare senza spese per l'amministrazione comunale questo edificio che ci consentirà di restituirlo, come ho detto prima, alla collettività con un indice di sicurezza già di per sé vicino al famoso 1 ma che con questi lavori renderemo sicuramente ancora più sicuro.